Hanno preso il via per 28 giovani neolaureati i tirocini per l'occupazione al Comune di Napoli, un progetto già sperimentato con successo nelle due precedenti edizioni che offre ad un numero limitato di studenti selezionati in base all'età e al voto di laurea la possibilità di un'esperienza formativa all'interno degli uffici tecnici e amministrativi dell'ente. In servizio dal 19 dicembre i giovani selezionati provengono dai diversi Atenei partenopei e saranno impegnati fino al 20 giugno 2012 in un percorso finalizzato ad un più semplice inserimento nel mondo del lavoro. Al termine dei sei mesi infatti l'amministrazione si impegna a promuovere un ciclo di incontri con le aziende cittadine per agevolare la collocazione occupazionale dei partecipanti. Per loro è una grande opportunità vedere come si amministra, come bisogna essere orgogliosi di far parte di una squadra che vuole il cambiamento insieme al sindaco, insieme a tutta l'amministrazione, insieme ai dipendenti. Poi sui giovani noi puntiamo tantissimo perché significa forse giovani, passione, entusiasmo, capacità, competenze perché vengono dall'università e soprattutto dobbiamo interrompere la migrazione dei giovani. Quindi questa è anche un'opportunità per creare posti di lavoro, le condizioni affinché il lavoro sia un diritto e quindi i giovani non vadano più via da Napoli. I neolaureati selezionati dalle università ed avviati al tirocinio percepiranno dal Comune di Napoli un contributo di partecipazione di 2.000 euro lordi. Obiettivo dell'amministrazione è anche quello di arginare la tendenza ad abbandonare la città, purtroppo molto diffusa nei giovani, soprattutto più qualificati. Sono convinto che la grande macchina comunale sarà offrire loro delle opportunità di conoscenza, di esperienza lavorativa e che quindi potranno poi avere quello che ciascuno di loro immagino si aspetta c'è un bel posto di lavoro in questa città o dove vorranno nel mondo ma potendo scegliere, non essendo obbligati ad andare via. Credo che questi sei mesi serviranno anche alla città per migliorarsi, per attirare nuovi investimenti, per stimolare le energie che ci sono e quindi probabilmente tra sei mesi parleremo di una Napoli un po' diversa, di una Napoli dove il lavoro torna a crescere dopo anni in cui è andata veramente malissimo.